Ciao, spaventosi ed eccentrici ma pur sempre adorabili, la famiglia Adams era puro divertimento, ma per qualche motivo esistono pochissimi giocattoli tratti da questi splendidi personaggi e per quanto ne so, se volete degli action figure per giocarci, questi sono gli unici che riuscirete a trovare. Prodotti dalla Playmates Toys nel 1992, sono tratti dal canton animato che andò in onda nello stesso anno. Ed ecco Gomez Adams, lui va matto per la scherma, perciò non dobbiamo fare altro che stringere le sue gambe e lui colpirà, hop, hop, niente male. Possiamo rimuovere la protezione del suo torace, oh guarda un po', c'è mano, ogni personaggio aveva insieme a sé mano e qui la vediamo che legge la pettolina di Gomez, questo è il punto che dovete colpire con la vostra spada, ma togliamo la pettolina e sotto Gomez indossa un bell'abito gessato, molto elegante. Possiamo anche rimuovere la sua spada, che è tutta un po' spiegazzata, come se l'avesse usato un po' troppe volte. Ed ecco Gomez, sono molto belli questi dettagli dipinti sul suo viso e sull'abito. Lui può muovere le gambe in avanti e indietro, questo braccio in alto e in basso e la testa gira da un lato e dall'altro, questo braccio qui invece è limitato dalla sua funzione. Direi che comunque ha un gran bell'aspetto. Ciao! 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 Grazie a tutti.